Ospite quest'oggi nei nostri studi Maurizio Tritarelli, presidente di CNA Macerata. Con lei parliamo dell'emergenza Covid che sembra in parte ad oggi dopo due anni superata, ma sono tante le difficoltà che stanno riscontrando le piccole e medie imprese del nostro territorio. Sì, sono tante le difficoltà che vanno dal caro energia al riferimento dei prodotti. È chiaro che il Covid pure ha creato delle difficoltà. Noi abbiamo sempre cercato di incoraggiare i nostri associati sul discorso della vaccinazione, che è stato importante ad evitare problemi ancora più gravi alle imprese. Le nostre aziende etiche, impegnate sul discorso del super bonus e sul discorso della ricostruzione post-sisma, hanno grosse difficoltà a ripetire mano d'opera. E anche le aziende in genere per quello riguarda mano d'opera specializzata. In questo periodo quali sono i settori che hanno risentito di più di questa crisi? Per quello che riguarda mano d'opera è sicuramente l'impresa etiche. L'impresa etiche hanno, come dicevo prima, difficoltà enormi. E c'è anche la possibilità che molte aziende non riescono a fare i lavori che vengono richiesti e debbano venire delle aziende di fuori. È veramente un peccato perché, se consideriamo che fino a poco tempo fa, le aziende etiche avevano delle difficoltà, sono andate avanti delle enormi difficoltà. Adesso che c'è parecchio lavoro, purtroppo con questa carenza di mano d'opera, hanno difficoltà a prendere questi lavori. Ci sono anche delle problematiche per quello che riguarda i preventivi perché con l'aumento costante dei prodotti, un preventivo fatto oggi, tra due settimane, già non è più valido perché i prodotti sono aumentati di molto. Quali sono invece gli aiuti che vi chiedono le aziende nel supportarli? Ci chiedono di trovare loro una d'opera specializzata. Noi per questo ci siamo adoperati, abbiamo fatto delle convenzioni con degli istituti scolastici, c'è stato anche uno scambio. Praticamente riesco a fare degli stage nell'azienda e i titolari di questa azienda in molti casi hanno poi tenuto con loro queste persone che sono andate a fare questi stage. La ricerca di mano d'opera, quindi i discorsi di collaborazione con le scuole, è importantissima.